Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, ecco gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo ancora dalla Fifili dove è ancora chiuso il tratto tra San Miniato ed Empoli Ovest a causa di un'autocisterna in fiamme. Incendio è stinto ma si registra un chilometro di coda tra Empoli ed Empoli Ovest in direzione Livorno e tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato in direzione Firenze. Disagi anche sulla viabilità esterna, in particolare code sulla statale 67 Tosco-Romagnola tra San Miniato e Ponte Aelsa. Passiamo sulla statale 1 Aurelia dove proseguono i lavori con scambi di carreggiata tra Monte Pescali e Gavorrano in direzione nord e tra Scarlino e Venturina in entrambe le direzioni. Sul raccordo Bettolle-Perugia invece fino al 20 novembre è chiuso lo svincolo di Cortone in ingresso e in uscita per chi viaggia verso Perugia. Per il momento è tutto, muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!